Musica 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 Daishan Delkar rappresentante delle donne tibetane spesso su Libri TV Il tuo ricordo di Marco Pannella Allora, buonasera buon pomeriggio a tutti io sono venuto qua al funerale di Marco Pannella perché Marco Pannella è un grande uomo politico anche per noi tibetani lui sempre tutti questi anni sostenuto alla causa tibetana poi lui, l'unico politico che è andato in Dharamsala compleanno di suo santità del Dalai Lama 80 anni che è festeggiato in Dharamsala e lui è andato proprio lì quindi per noi è molto caro Marco Pannella quindi infatti oggi molti tibetani onorano e sostengono al sensibile verso di lui poi oggi è una giornata speciale per noi tibetani è Sakatava Sakatava è discesa di Buddha la morte di Buddha poi illuminazione di Buddha quindi è molto importante il giornale per questo noi il nostro preghiere dedichiamo a Marco Pannella grazie Marco Pannella che ci ha aiutato molto il popolo tibetano speriamo che anche il partito radicale continui anche se senza Marco Pannella continui ad aiutare il popolo tibetano grazie 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 grazie